Il castello del piano non stecca l'ultima sfida della stagione davanti al pubblico di casa superando 2-1 il sigillo nell'anticipo della penultima giornata del girone A di promozione. Entrambe le squadre sono ormai salve e i due tecnici danno spazio anche a chi ne ha trovato di meno nel corso dell'anno. Il castello del piano di Luca Grilli scende dunque in campo con Proietto, Barluzzi, Mattia Proietti, Sisani, Biavati, Urbani, Mercus, Jacopo, Mancinelli, Menichini, Broccatelli e Timbri. Il sigillo di Di Renzo risponde con Brunetti, Ferretti, Chiocci, Barbacci, Gilardi, Pappafava, Lisarelli, Giacometti, Cacciamani, Radicchi e Cabraui. Il castello del piano in vantaggio al minuto 14. Quando Timbri c'entra dalla sinistra, Brunetti si lascia sfuggire, palla, Menichini ringrazia e Timbri all'1-0 rosso-blu. La replica del sigillo è affidata a Cacciamani che viene Murato, poi Cabraui cerca la porta ma trova Proietto a dire no. Sull'altro fronte è Menichini a servire Mercus ma il recupero di Chioccia è provvidenziale. Ancora Castello del piano al 37esimo ma Brunetti smanaccia il suggerimento di Jacopo Mancinelli. Ribaltamento di fronte, il classe 2004 Giacometti chiama in causa l'altro 2004 Proietto. Il portiere del castello del piano deve alzare poi sopra la traversa al minuto 40 quando Chiocci prova la battuta da fuori. Prima dell'intervallo è ancora Giacometti a creare scompiglio ma la conclusione di Lisarelli finisce sull'esterno della rete. Si va all'intervallo sull'1-0 in avvio di ripresa e subito il sigillo a rendersi pericoloso ancora con Lisarelli. Alla mezz'ora però in gol ci va ancora il castello del piano con Menichini che sul lancio di Proietti approfitta dell'incertezza di Pappafava per siglare il 2-0. E la doppietta personale che lo porta a 4-7 in classifica a marcatori. È il minuto 75 e due minuti più tardi il sigillo accorcia le distanze grazie all'autorete di Proietti che sorprende così Proietto. Gli augubini nel finale provano il forcing alla ricerca del pari ma all'84esimo è bravo Proietto sull'incornata di Cacciamani. Poi al novantesimo la conclusione di A che è troppo debole per impensierire il numero 1 rosso-blu e il 2-1 è servito. E' una partita che ho provato anche ai ragazzi che giocavano poco quindi ho cercato di mettere anche così ai ragazzi di dargli più spazio. Una partita così dove la classifica obiettivamente ci chiedeva poco sia a noi che a loro. Forse ecco soltanto lo stimolo per chi passasse avanti all'altra. Quindi insomma ecco però secondo me con un pizzico di terminazione in più la potevamo anche pareggiare. Però insomma non ne facciamo un dramma insomma via va bene. Beh è stata una partita bella con un caldo anomalo insomma partita di fine anno fra due squadre che non hanno niente da chiedere dal punto di vista della classifica. Però noi ci tenevamo a finire bene la stagione in casa. Credo che la vittoria sia diciamo legittima per quello che si è visto in campo. Però è stata una bella partita combattuta anche a livello tecnico. E niente faccio i complimenti anche al sigillo per il campionato fatto e per le qualità espresse in campo.